buongiorno amici di monza news e bentrovati nel consueto video di fine settimana che pubblichiamo su youtube intanto complimenti a tutto il mio staff di di monza news perché ieri ha fatto un lavoro eccezionale per quanto riguarda i calendari con aggiornamenti live testuali sul sito i nostri federico ferrario andrea rurali che con paolo sammioro delle amici del monza hanno commentato live la compilazione delle varie giornate non sto qui a commentare il calendario anche perché la trovo una cosa abbastanza inutile perché come dice qualche allenatore poi alla fine le vai ad affrontare tutte anzi l'inizio tutto sommato è anche morbido se vogliamo quella sfida contro l'impoli e poi nella partita interna con con il genoa ma non sto qui a soffermarmi ripeto perché poi c'è poco da dire secondo me sul calendario ci sono dei momenti che saranno un po' più complicati altri un po' più semplici quindi ripeto c'è c'è poco da dire e poco secondo me da commentare tra poco anzi vi dirò una bella notizia che riguarda due giocatori del monza prima mi soffermerei con un breve punto sul mercato dei brianzoli con adriano gagliani che ha lasciato molto aperta la porta per scesni io dico da giorni che è una trattativa molto molto difficile molto complicata la situazione ad oggi quale l'ha spiegata bene gagliani nei giorni scorsi il monza resta alla finestra il monza ha fatto una sua offerta del giocatore aspetterà la fine del mercato per capire se scesni partirà o meno scesni è un portiere di assoluto valore io credo che da qui alla fine di agosto verso i giorni del condor riceverà un'offerta importante da qualche club non so se europeo se andrà a chiudere la carriera in arabia certo che è un grande portiere forse uno dei migliori a livello europeo e il monza fa bene a provarci a restare alla finestra anche perché in rosa ha un portiere di buonissimo valore come alessio cranio quindi aspetterà il monza ci sarà una fase di cessioni anche perché in questo momento la rosa del monza con i rientri dei prestiti è formata da bene 40 elementi quindi si cercherà prima di tutto di sfoltire l'organico a disposizione di alessandro nesta che sarà presentato martedì in conferenza stampa e vi ricordo che poi martedì sera ci sarà un appuntamento speciale l'ultimo forse nella stagione con monza una città da serie a dove andremo anche a commentare le prime parole di nesta le prime nostre sensazioni eccetera eccetera tra l'altro a proposito di sensazioni appena finita la conferenza stampa di nesta andate sul nostro canale instagram perché troverete un mio video di commento live a caldo di quella che è stata la conferenza stampa di alessandro nesta che potrete trovare live su monza news come testuale martedì a partire dalle ore 12 quindi il mercato del monza esaurita la fase delle cessioni poi vedrà protagonisti adriano galliani sui uomini mercato per rinforzare la batteria delle riserve a livello difensivo con la novità del difensore simici del milan che è diventato di fatto un obiettivo dei brianzoli come possibile riserva dei tre centrali dietro priorità rinforzare le fasce con birindelli e chiede copulos che non hanno fatto benissimo lo scorso anno con ciurria che rientra da un infortunio e poi vi racconterò per quanto riguarda gli infortuni la novità di questi giorni e poi là davanti l'obiettivo numero uno è daniel maldini qualcosa si farà anche a livello di di vice di urici che resterà il perno offensivo di questa squadra io credo e lo ribadisco che questo monza è già competitivo così com'è che chiaramente con due tre giocatori importanti si potrà migliorare ulteriormente questa formazione e che probabilmente se dovesse arrivare cesni si potrebbe davvero sognare ancora di più rispetto alle prime due annate in serie a pur ribadendo che di gregorio è stato uno dei più grandi protagonisti però chiaramente se vai a prendere cesni e chiaramente potresti anche alzare l'asticella perché ripeto resta un portiere di grandissimo valore anche a livello internazionale chiudo dicendovi che ci sono un paio di giocatori del monza che si sono già rimessi al lavoro questa è una bella notizia uno è d'ambrosio che doveva recuperare la miglior condizione che ha iniziato prima degli altri si sta già allenando a monsello dalla scorsa settimana e l'altro è già luca caprari che tra l'altro l'ho incrociato nel centro cittadino nei giorni scorsi che passeggiava con quella famiglia non mi sono fermato a parlare con lui ma l'ho visto bello sorridente secondo me potrebbe essere davvero il grande acquisto del monza il nostro numero 10 credo che gli verrà confermata la maglia numero 10 anche se lo scorso anno non lo ha portato benissimo poi i numeri li sapremo con la prima amichevole che sarà disputa tra i veri anzoli nel ritiro di ponte di legno e quindi questa è la bella notizia che comunque il monza ha ritrovato due giocatori della passata stagione che non stavano benissimo ma che hanno già iniziato insomma a prepararsi a dovere con l'inizio della nuova stagione una stagione che partirà settimana prossima lunedì il raduno a monzello con i primi test martedì l'attesissima conferenza stampa di alessandro onesta quasi un mese dall'annuncio sapremo le prime parole del nuovo tecnico e poi la partenza per il ritiro di ponte di legno dove la squadra brianzola giocherà 4 amichevoli quindi assolutamente da tutto da seguire live su monza news e vi ricordo l'appuntamento martedì prossimo con monza una città da serie a grazie e buon weekend a tutti restate collegati su monza news per tutti i dettagli su sul monza sul mercato del monza sulle notizie del monza ma anche extra notizie extra chiaramente extra calcio extra sport perché sapete che abbiamo da un anno a questa parte ampliato l'offerta su monza news quindi non trovate soltanto notizie legate al calcio allo sport ma anche notizie su monza e sulla brianza ciao buon weekend